bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite novità veramente incredibili perché parleremo di una nuova ltm pazzesca tanta tanta roba ma vi parlerò anche di un oggetto misterioso trovato nei file di gioco prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle news ma andiamo anche ragazzi a parlare oggi ovviamente di alcune informazioni riguardanti la prossima patch sì perché ieri c'è stato un piccolo update 300 mega circa per pc qualcosa un po di più per console hanno in realtà fissato alcuni bug importanti ma la roba veramente interessante dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con un grande grandissimo downtime e una mega patch che ci porterà insomma alla conclusione di questa season 2 prima però volevo farvi comunque la domandina ed è una domanda la più classica di tutte ma che vi ho chiesto solo una volta in questa season ed è proprio tu cosa ne pensi di questa season dai ragazzi io devo dire che si sono tirati fuori dal baratro rispetto alla season 1 di questo capitolo 2 egregiamente tanta tanta roba hanno dato una bella rinfrescata ad un gioco che era destinato ad abissarsi soprattutto anche per il tempo in cui abbiamo dovuto aspettare per questo capitolo mi piace la storyline mi piace quello che stiamo vedendo mi piace la mappa mi piacciono le nuove location e penso anche che arriveremo ad avere una mappa molto più intensa per quello che riguarda le posizioni per andare all'andare insomma dimmi quello che ne pensi te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e vando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che parla proprio dei bug fissati nella piccola patch di ieri hanno sistemato una cosa che riguardava le sfide di ad alcuni giocatori non apparivano hanno sistemato un problema di crash del gioco che dal nulla appunto si frizzava e si chiudeva automaticamente hanno anche sistemato alcuni problemi di texture per gli utenti di playstation quindi poca roba ma comunque non ci dà fastidio vi ricordo ci sono sempre dentro tre pack criptati che ancora non sappiamo che cosa contengano ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi ed è proprio la cosa che è stata scoperta riguardante la prossima pace ve ne avevo parlato non vi avevo ancora fatto vedere le immagini ufficiali eccoci qua nei file di gioco dove ci saranno per questi giorni che arriveranno tre patch la 12.40 la 12.41 e la 12.50 che dovrebbe appunto segnare la fine della season 12 tra virgolette questo darebbe ulteriormente la conferma che la stagione in corso verrà prolungata anche perché ovviamente tutto il team di epi games è a casa dal lavoro come ovviamente tutto il mondo in questo momento quindi un prolungamento vorrebbe poter dire anche delle overtime challenge che ci darebbero la possibilità di livellare ancora di più con il nostro personaggio e di ottenere punti esperienza extra e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi guardate un'altra immagine meravigliosa non ho visto oggi non mi avete detto quella di ieri se l'avete interpretata bene la storyline di me da quello che sta succedendo e quello che c'è che abbiamo già visto nei cartoni animati e nella mitologia e storicità comune qua invece stiamo parlando di alcuni elementi che sono presenti sia nel passato di fortnite che in alcune cose attuali ad esempio il miascolo che c'era già nel capitolo 1 e più precisamente nella schermata di caricamento della season 7 come vedete ragazzi sul tavolo proprio di links c'erano dei richiami dal tavolo di sky a quello di links abbiamo allo shark quindi allo squalo una fan art disegnata del cubo quindi cubo che in qualche modo è sempre dentro anche se non fisicamente c'è anche il cactus verso il dogus quindi il il mostro versus il robot della fine season 9 se non ricordo male nella stanza di sky insomma ragazzi tanti piccoli easter eggs tanti richiami a quello che c'è adesso e a quello che c'è stato e allungate l'occhio perché probabilmente nel game ne verranno messi molti altri così come verrà messa ragazzi una grande figata la nuova ltm una nuova modalità a tempo limitato e di cui sappiamo ben poco ma vi faccio sentire dei suoni vi faccio sentire dei suoni ragazzi un rumore molto particolare una cosa che non si riesce bene ad interpretare ma sappiamo che questa nuova ltm dovrebbe essere giocata su rapide rischiose nei file di gioco è stata trovata una voce che si chiama now playing quindi in corso in questo momento e ovviamente si pensa che lo schermo di rapide rischiose possa essere l'autore o comunque il protagonista di questa nuova modalità che però sappiamo essere dedicata ad uno show televisivo che forse non tutti conoscono che si chiama punk che cos'è punk ok praticamente come il nostro scherzi a parte solo che è arrivato dieci anni dopo praticamente c'erano appunto delle degli scherzi che venivano fatte in america alle celebrità non sappiamo ovviamente come possa essere associato ad un ltm ma ci sono delle nuove informazioni che sono veramente incredibili tra cui quelle che vi sto facendo vedere il titolo now playing ve l'ho appena detto la descrizione dice vuoi rischiare entra nella entra e gioca per entra e gioca per prendere l'hourly screening of punked per essere alla cima del divertimento di punked possiamo riassumerlo in questo modo insomma ma la cosa che più ci interessa non è tanto la descrizione che ce ne sbatte altamente ma è quello che c'è sotto perché guardate quello che potremmo fare vending machine enable l'attivazione dei distributori i redeploy abilitati anche quelli fishing quindi sarà disabilitata la pesca sarà possibile disabilitare il loot sarà possibile disabilitare i veicoli ma potremo anche rimettere le granate ad impulso le bombe ombra le granate ghiaccio questo mi fa pensare che probabilmente la nuova ltm potrebbe essere in qualche modo manovrata dal leader del gruppo dall'utente stesso e quindi far sì che si creino delle situazioni molto divertenti con i giocatori il che mi riporta a pensare che potrebbe essere appunto una ltm dedicata solo ed esclusivamente a rapide rischiose quindi con una tempesta che non che già prende tutta la mappa e che ci lascia solamente libera questa location insomma ragazzi tanta tanta roba da capire qua vi sto facendo vedere meglio anche nuove cose che verranno implementate ad esempio il combat shotgun si potrà utilizzare ve lo ricordate il fucile a pompa tattico il revolver la minigun la revolve con il mirino e tante tantissime armi che hanno fatto la storia di fortnite insomma ragazzi staremo a vedere che cosa ci riserverà il futuro per questi giorni per adesso io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel like iscrivetevi ai miei canali e io sono in live adesso su twitch ciao ciao ciao